Ciao a tutti, sono Rebecca Brunetti e sono 10 anni. Vengo da Milano, Italia, e questo anno ho studiato la violenza con Cristina Mirkovic. In questo video Cristina e io vi guideremo step by step in come ho imparato la mia violenza con il libro Violin in Action e con il metodo Mirkovic. Let's go for it! Sono undici sorfeggio, pronti, via! La, a, a, si, do, re, do, si, la, a, sol, a, oll, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, a, a, sol, la, a, si, si, sol, fa, mi, ii, 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 sol, fa, mi, ii, fa, a, sol, fa, mi, mei, re, e, le, e, Meine la a a si, do, do, o, mi i, e le, la si, hi, hi la a a si, do, i to si la a so, la a, si, do, si la some, fa mi, fa a a so la a si, hi, sol fa mi, i, mi Sono 11, ci fai vedere gentilmente Revi che pattern fai per la mano sinistra sulle corde La e Re, potete vedere che finger patterns usate su A and D string per la Song'Ilema, let's go for it! Song 11, Song 11, ci fai vedere come fai di seguire sull'archetto, nota col puntino seguita da quattro ottavi legati, quindi kindly demonstrate to us how do you rytmically distribute ton your bow, dotted note followed by slurred for eight notes, let's go for it. Song 11, 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 Grazie a tutti